La Kermess, un primo bilancio? Io direi assolutamente positivo, basta vedere la coda alle casse, quindi siamo contenti, stasera c'è un po' d'aria fredda, ma siamo qui in maniche corte, ma si lavora e quindi si corre, si salta e si suda. Nonostante la crisi, devo dire, avevo qualche timore, in realtà sono soddisfatto. Adesso il bilancio è presto a farlo, ma a fronte dei timori iniziali credo di poter dire che abbiamo sconfitto la crisi sicuramente. C'è sicuramente un calo, però molto meno rispetto a quello che poteva prevedere un periodo così difficile.